Starnuto inverso? Parliamone. Oddio dottoressa, il mio cane stava soffocando stanotte. E poi? E poi si è risolto tutto da solo, così non me ne è arrivato e è sparito. E allora io gli chiedo, mi mima per favore quello che stava facendo? Cioè il cane faceva una cosa del genere? Perfetto, si parla di starnuto inverso, cioè praticamente è forte come uno starnuto, ma il cane anziché butta fuori aria come come uno starnuto, la tira dentro. Girano sul web delle notizie folli tipo chiudigli il naso, fagli guardare la luce, non farlo respirare, vedrai che a un certo punto passa. In realtà è come cercare di interrompere una persona che sta starnutendo. Sta starnutendo, lascialo fare. Lo stesso vale per lo starnuto inverso, solo che nello specifico tira dentro aria. Quando il palato si infiamma, quindi ad esempio se c'è una base di allergia, oppure se ha leccato qualcosa o se ha respirato qualcosa che gli ha dato reazione allergica, oppure anche semplicemente la polvere. Quindi se il tuo cane è soggetto a questo comportamento qui, un cucchiaino di miele seguito da una puntina di cucchiaino di olio di oliva. Se invece non l'ha mai fatto, di certo è necessario fare una visita per estudere che non ci possono essere problemi di altro genere. E tu lo sapevi che esiste anche lo starnuto inverso? Scrivimelo qui sotto nei commenti, poi verso il mio profilo è che è quasi un...